Che cos'è un ambiente di programmazione e come deve essere strutturato per far sì che tu possa programmare ogni singolo giorno con totale tranquillità, con tutta calma e con tanta di quella professionalità in modo tale che ogni singolo progetto sia sviluppato nel minor tempo possibile e con meno costi possibili al di là del fatto di non avere degli stress che ti possono portare a commettere degli errori gravissimi. Ciao e benvenuti all'interno di questo canale, io sono Strongoli Alessandro e sono il tuo programma e coach. Se ancora non mi conosci seguimi, iscriviti e attiva la campanellina perché ogni singolo giorno eroguerò un video veramente importante per quanto riguarda la programmazione PLC Siemens in modo che tu possa diventare sempre un programmatore PLC Siemens, professionista e autonomo. Quello che voglio spiegarti oggi è il fatto che ogni singolo giorno quando un programmatore si porta, si presta ad andare a lavorare, la prima cosa che fa è aprire tutti i vari strumenti che si trova sul suo computer. Quindi aprirà Office, aprirà le mail, ma la cosa più importante, visto che deve iniziare a sviluppare partendo da zero o facendo delle modifiche abbastanza importanti su dei progetti interessanti che un cliente gli ha dato in commissione, aprire l'ambiente di sviluppo. Che cos'è un ambiente di sviluppo? La sviluppo è un ambiente dove possiamo comodamente andare a vedere quello che succede, quello che deve essere programmato. Infatti in un ambiente di sviluppo è un portal, una piattaforma dove potrai ogni singola volta che devi creare un progetto oppure devi modificare un progetto sia esistente oppure devi creare delle simulazioni o dei prototipi, puoi comodamente progettare tutto qui al tuo interno. All'interno del nostro programma, che in questo caso stiamo utilizzando il Tia Portal, visto che parliamo direttamente del Siemens, avrai la possibilità di unificare quello che è la progettazione del PLC con la progettazione del pannello operatore, quindi del nostro EdgeMI. All'interno potrai anche vedere altri tipi di dispositivi, altri tipi di tecnologie che sono veramente interessanti nel momento in cui tu andrai ad applicare ogni singolo concetto che imparerai nel tempo. Naturalmente qui all'interno potrai creare, aprire, migrare progetti da una vecchia versione a una nuova versione e poter vedere che questo tipo di piattaforma è totalmente flessibile perché ti dà la possibilità di poter aggiornare e ristallare tutto comodamente utilizzando internet e il tuo computer. Questo cosa significa? Significa che tutte le volte che ti troverai in difficoltà o ti trovi attualmente in difficoltà nel sviluppo, nella progettazione, nel capire che cos'è un ambiente predisposto per la programmazione, quello che devi fare molto semplicemente è seguire questi semplici step che ti possono portare a aprire, migrare e concludere i progetti in modo completo. Innanzitutto parliamo dell'apertura. L'apertura non è una cosa semplice perché certe volte chi ci invia i file ce li invia in un determinato formato e quel determinato formato deve essere scompattato. Quindi avrai la possibilità all'interno della tua piattaforma di scompattare i progetti e poterli a tua volta metterci le mani. Successivamente come poter migrare i progetti? La migrazione dei progetti significa portarsi da un PLC di una vecchia versione che può essere un S7300, un S7400 e portarsi all'interno del tuo Tiaportal. Naturalmente perché questo tipo di migrazione viene fatto? Perché all'epoca non esisteva il Tiaportal, quindi bisogna cercare di portare una vecchia versione verso una nuova versione, in modo tale che tu possa utilizzare il PLC della 1500, della 1200, tutti i PLC disponibili dal Tiaportal e poterlo applicare sugli impianti, nei quadri elettrici o nelle macchine, nei progetti in cui tu stai andando a sviluppare questo tipo di modifica. Terzo punto e molto importante è l'aggiornamento della tua piattaforma. Mi raccomando, devi tenere sempre aggiornata quella che è la tua piattaforma di sviluppo. Non lasciarla indietro, perché se vengono erogati determinati aggiornamenti e tu non hai quegli aggiornamenti preimpostati e installati correttamente sul tuo computer, quando dovrai fare una modifica e il sistema ti richiede quel determinato aggiornamento, tu sarai obbligato a farlo in un secondo momento, perdendo del tempo e se sei di fretta perdendo anche soldi. Quindi stai molto attento a quello che fai, cerca di tenere sempre la tua piattaforma aggiornata, di non perdere ogni singolo concetto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!